Io gioco in una squadra che dà molto spazio ai giovani per tradizione e quest'anno infatti non si sta smentendo, quindi sono davvero fortunato di essere a Empoli, che per me è un palcoscenico veramente, penso, il migliore che mi potesse capitare a questa età e cercherò di fare il massimo perché secondo me è il mio trampolino di lancio. A partire dalle pressioni esterne ce ne sono poche per essere una squadra di Serie A, quindi è sicuramente più facile vivere in un ambiente così che in un ambiente che ti sta addosso e che ti dà pressioni, quindi quello è un primo aspetto. Poi tanti altri aspetti che fanno di Empoli una piazza delle migliori in questo senso perché c'è molto coraggio appunto da parte della società a lanciare questi giovani e quindi appunto come dicevo prima è davvero il posto giusto al momento giusto. Grazie. Grazie.